Amore della mamma? Cosa ti ha... No! Fino di poter venire fuori! Bastardo ti ha morto! Io dalla posizione dell'acqua guardavo mia e me le dicevo, mamma! Aspetto cinque minuti! Quando va via il demonio esco! Non so se avete mai visto i bambini quando li prendono dal bagnasciuga, gli strappano le clavicole per portarli fino alle cabine. E vedi questi bambini con la faccia del terrore? Aiutatemi! Mia amma li metteva dentro la cabina? Col costume bagnato! Tutto viola dal freddo! Mia amma li guardava che faceva! Io... Io... Non ce la faccio più! Per me questa è una vacanza di merda! Ma te lo giuro!